ciao e benvenuto di nuovo sul mio canale io sono marco prima di cominciare questo nuovo video ti invito ad iscriverti e attivare anche la campanella lasciare un like un commento seguirmi anche sui miei canali social allora sistemiamoci anche il microfono perfetto nuovo video dedicato ai mix tra una cosa un'altra sto cercando di farvi fare dei video sempre come mixato ma anche dei video relativi a i plugin me l'avete chiesti appena un attimo di tempo come sapete sto ancora lavorando allo studio quindi ho pochissimo pochissimo tempo oggi vi voglio far vedere come ho mixato il brano sempre per la nota pagina facebook che vi lascio i link sopra di come ho mixato altri altri brani di questa jam session hanno registrato in casa dei dei brani delle delle cover dei ragazzi questo caso è un brano dei decalt che si chiama love removal machine quindi hanno registrato in ognuno senza conoscersi con le attrezzature che avevano chi più chi ha più di meno mi hanno registrato il brano e me l'anno mi hanno mandato gli stems quella che vedi attualmente la sessione di pro tools e ti faccio vedere come ho mixato in questo caso il questo questo brano tengo a precisarti una cosa tanto ci sarai iscritto sicuramente al canale lo spero perché insomma mi fa piacere se ti iscrivi questo è il primo mix che faccio con le in home studio non con le mie casse tra l'altro o qua dietro perché devo poi spostare la roba nello studio nuovo anche le da in audio le bm 5 che sono le mie casse che ho nello studio grande e il primo mix che provo a fare con le mission lx2 e in alto troverai sempre il link in descrizione di che cosa sono le mission lx2 ho anche utilizzato per controprova perché il nome recording io ho mixato quasi sempre con le bayern dynamic di t9 90 come sapete sai e come sapete e sono le cuffie che uso per il mix per il master però ho voluto fare una prova di mix con le mission lx è giusto per capire le opere perché ci ho lavorato ci suonato le ascoltate ascoltato come funzionano e tutto quindi ho voluto provare a mixare un brano intero con con questa cuffia e il risultato del si stringerà la mia faccina il risultato è questo e questo qui ok non la faccio sentire tutto perché è una cosa quindi youtube tenderà a criticare che ti faccia sentire una cover però era giusto per farti sentire velocemente puoi ascoltare questo brano ti metto il link del gruppo facebook penso che poi la caricherò nel mio anche soundcloud adesso vediamo un attimino allora quindi mixata con mission lx2 partiamo da come composta questa sessione composta da una batteria fatta da kick snare poi abbiamo un tom 1 e un floor e gli overhead classici poi abbiamo un basso chitarre di accompagnamento il chitarrista mi ha mandato uno stem unico stereo quindi ho anche delle parti piccole parti soliste durante l'esecuzione del brano che che suonano in direttamente insieme alla alla ritmica quindi non ho potuto diciamo gestire io i volumi di quello che è il discorso di bilanciamento ritmica e solo ho fatto con quello che c'era e poi ci sono i due a soli poi ho una voce principale lead vocal e ho i cori semplicissimi quindi partiamo a vedere la batteria la batteria come sempre ho usato anche il solito arriva compare eccolo qui trigger 2 anzi ti tolgo anche la mia telecamera che tanto non te ne frega niente di vedermi ma devi vedere la sessione allora ho usato il trigger sempre il trigger 2 della slate giusto per dare un po più di sostanza questo kick idem sullo snare io come faccio questa operazione lo sai benissimo copio la traccia e sulla seconda traccia aggiungo il kick sample e lo snare sample in questo caso poi cosa ho fatto fatto anche per i tom perché avevano un po di rumore di fondo infatti parlando col batterista gli avevo detto che i microfoni dei tom tanto con un po di rumore di fondo quindi mi piaceva avere anche un'idea di suono un po più definito per quello che riguarda anche i tom e il timpano quindi io ho fatto un sample quindi ho aggiunto un tom virtuale come sempre della slate io uso molto il trigger 2 della slate che consiglio di se non hai un software che fa il il triggering o comunque anziché usare magari una libreria di una batteria virtuale che ho visto l'ho visto anche fare e questo è un software che spesso adesso soprattutto quando arriva il black friday è a un prezzo molto molto accessibile a me piace come suona l'ho sentito usare anche in sessioni ben più importanti di quelle che che magari faccio io fanno altri quindi detto questo torniamo giù torniamo a vedere cosa ho fatto allora in questo caso allora normalmente nelle sessioni che faccio io uso la console one della soft tube perché fondamentalmente mi piace il controllo mi piace il color che da questo caso non ho voluto utilizzare la console one ma ho utilizzato dei plugin comunque belli a mio giudizio allora sul kick ho voluto usare il sand 3 della acustica audio che tra l'altro trovi una playlist di acustica audio quindi puoi sentire come l'ho utilizzato l'ho utilizzato in questa maniera ho messo un po di compressione quindi schiacciato leggermente la cassa l'ho schiacciata io ho messo la parte relativa ai che cos'è che sta facendo quindi un bass questo caso perché ho fatto un bass del kick poi ho dato un po di alte sui 9000 circa ma proprio una punta leggerissima e poi ho dato sui 100 io ho dato 2db sui 100 quindi po di punching e poi anche qua ho usato un altro sulle medio basse ho usato un altro tipo di equalizzatore leggerissimo una punta punta non hanno non ho voluto estremizzare invece sul key sullo snare sono andato a utilizzare il pink 4 in questo caso anche qua con l'equalizzazione sui 3000 leggerissima una punta 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 poi gli ho dato sui 300 qualcosina per dargli un po più di corpo ho attivato un preamplificatore e poi gli ho dato una compressione e in modo da dargli un po di di punch a questo poi successivamente apre un mixer che mi è un po più comodo sui tom e gli overhead mix hub quindi ho fatto un controllo dei volumi dato un po più i tom come cresce come dice che il soldi il volume non è mai abbastanza per far uscire i tom li ho portati su anche alcune volte hanno anche di brutto dire non dico clipato ma saturato e ho equalizzato un po di più gli overhead cercando di far uscire un po il punch della cassa e gli altri per avere un po più di di brillantezza non ho usato compressione e fondamentalmente ho fatto questo poi trigger vabbè l'hai visto cosa ho fatto poi rullante rullante ho usato la ik multimedia il sunset studios che è un riverbero che a me piace un casino e in questo caso ho usato un old school spring perché volevo avere un po più di sound sound vintage sul rullante quindi un po di riverbero aperto che poi ho regolato con una mandata tutta la batteria è stata mandata al drum bass quindi tutti entravano da questo drum bass non ho fatto operazioni sul drum bass perché mi piaceva già il risultato tranne la compressione parallela della batteria che ho fatto con un compressore della sempre acustica audio il pink 4 che a me sul bassa batteria piace tanto e in questo caso ci sono andato un po pesante a livello di di compressione poi quindi che cosa ho fatto ho deciso quantitativo di 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 compressione da mandare basso basso ho usato plugin alliance ampeg per dargli un po più di suono un po più ferraglioso diciamo da qual ho mandato dentro il suo bass master in questo caso volevo un sound diverso e ho utilizzato il gold il gold 4 della sempre acustica audio in questo caso ho il compressore attivo quindi con una razza 4 1 una threshold leggerissima c'è una proprio una punta ovviamente ho attivato la funzione di pre che dice che un bass e poi ho dato un pochettino più sui 180 io ho dato un po di 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 ciccia perché mi mancava un po di ciccia al basso no effetti zero pulito dritto chitarre chitarre non ho fatto trattamenti sulla traccia l'ho mandato al bass master bass master ha usato il sen 3 e qua invece sono andato a di di sempre che un bass usato una compressione c'è dato un po di compressione con 2 3 db di compressione pulito un po con un filtro sui 80 hertz col tutto un po di parte bassa io ho usato una medio alte sui 4.000 3 3db quindi lo schiarite schiarito anche sui 5.000 con un altro equalizzatore e gli ho dato sui 400 una punta un po più di basse perché le ho recuperate rivendo tolto un po di di parte molto bassa io ho ridato la la parte e poi vabbè ho usato il trim di ingresso e out per gestirmi il volume in ingresso e in uscita anche qui zero 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 effetti mi piaceva già perché la traccia mi è arrivata già un po effettata quindi non ho dovuto soli soli di chitarra li ho gestiti con il mix hub dandogli sia filtro sulle alte che filtro sulle basse schiarite in alto sui 8.000 schiarito anche sui 3.000 dato un po più di di frequenze alte perché volevo che uscissero ho usato anche una parte che relativa l'expander non ho tolto proprio poco 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 sulle sulle basse ma una punta e poi ho usato con attacco veloce l'attacco normale rilascio veloce razio a 3 threshold leggerissima gli ho dato un punto di compressione ma proprio leggera più che altro mi interessava quello che riguarda il discorso di delle frequenze alte per fare uscire meglio da solo il tutto è stato mandato sempre su questo riverbero classic room della classic studio verb della ik multimedia e e io ho dato un po più di tridimensionalità al al tutto sulla voce invece ho lavorato sempre con mix hub questo caso volume tagliato tutto un po di parte centrale quindi sui 70 hertz tagliata gli ho schiarito sui 6.000 sui 8.000 gli ho dato un bel 6 db quindi l'ho fatto uscire compressione molto importante gli ho messo un gate per togliere un po delle parti che non mi interessavano gli ho dato una compressione impegnativa infatti non si sente tanto nel mix però se andiamo a vedere questo si noterebbe che è compresa a una bella a una bella compressione tolti sempre i 50 e schiarito sugli altri per far uscire bene la voce poi compressione parallela della voce fatta sempre questa la faccio di default due riverberi in questo caso ho usato un classic hall della riverbero un po grande per quello che riguarda io lo chiamo riverbero emozionale ma è un mio modo di di parlare di dirlo e poi c'è un il classico sempre thunset studio ho usato uno studio isobot per togliere l'effetto prossimità questi sono i due trattamenti che faccio poi successivamente c'è i cori anche qui backing vocals po di volume per farlo uscire pulizia delle parti basse un gate per pulire solito compressore razzio 4 attacco veloce schiarita sempre sugli 8000 pulite le parti in basso poi tutto il resto io l'ho dato di volume l'unica cosa che ho fatto ho messo anche qua sempre usato stesso tipo di riverbero per la voce quindi riverbero corto e riverbero lungo poi per ultimo bass master col pink 3 non uso il pink 4 perchè sul bass master paradossalmente mi piace più come suona il 3 persone di gusti quindi ho dato una compressione al bass master un db di compressione legato tutto insieme poi torniamo di qui scusa coffee the pan per dare punch sui 70 quindi ho dato un po' di ciccia sui 70 schiarita sui 10000 poi ti ricordo che ho fatto questo mix l'ho fatto con le mission lx2 poi per controllare perchè volevo fare un controllo a b come suona ho usato sempre il mio eb road studio 3 ho verificato ti dico a sensazione ti dico che le cuffie con le b road e le lx suonavano abbastanza simili nel senso che mi è sembrato di mixare con le cuffie come mixo normalmente quando mixo i nomi ricordi con le cuffie quindi questo era come ho mixato la gem session del gruppo facebook di cui trovi sotto il link la brano è dei decalti che si chiama love removal machine iscriviti, attiva la campanella, lascia un like, seguimi sui canali social attiva sempre la campanella è molto importante attivare la campanella perchè rimani sempre aggiornato su quello che riguarda i nuovi video che escono allargo la faccina così posso salutarti e ti aspetto sul mio canale per i prossimi video ciao ciao